Il 20 dicembre 2006 per Giorgio Welby ottiene che la macchina che gli consentiva di respirare artificialmente potesse essere staccata. Welby era il co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, associazione che si batteva e tuttora si batte per il diritto all'eutanasia. Welby era malato sin dalla più tenera età di distrofia muscolare, la malattia lo aveva condotto all'immobilità, gli aveva tolto l'uso della parola, era una mente sana in un corpo morto, una situazione assolutamente drammatica con la quale Welby convisse per decenni, morì a 60 anni e morì dopo essersi battuto in vano perché il Parlamento approvasse una legge sull'eutanasia. Morì male, morì soffocato perché la legge non gli consentiva quella che viene con un eufemismo definita dolce morte. Quella legge è ancora riposta nei cassetti del Parlamento, a differenza di quello che accade in altri ordinamenti di Paesi europei.